Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Claudio Marmugi, sono il vicepresidente di Avis Comunale Livorno e sono qui stamani per parlarvi della donazione di sangue ai tempi del coronavirus. Allora, la donazione di sangue sta andando benissimo, siamo molto contenti e orgogliosi dei nostri donatori che ringraziamo perché appunto hanno capito il meccanismo e dopo un iniziale calo le donazioni hanno ripreso benissimo. Qual è il meccanismo? Per la vostra sicurezza, la sicurezza di tutti, degli operatori ma soprattutto del donatore che va a donare, sarebbe opportuno prenotare prima. Quindi telefonando allo 0586 44 41 11 si può prenotare la donazione in totale sicurezza. Ecco, sicurezza che difficilmente può essere garantita se uno arriva lì all'improvviso e vuol donare e ci sono già 15-20 persone prenotate. Quindi se volete donare l'opportuno sarebbe prenotare. Ma soprattutto, ecco qui che mi sono messo la magliettina gialla di Avis del plasma, vorrei chiedere questo ai nostri donatori. C'è bisogno di plasma, perché il sangue sta andando bene, il plasma un pochino meno. E noi vogliamo ritirare su questo valore perché Livorno è una città dal cuore immenso, che abbiamo fatto cose incredibili e che è stata una delle prime città in Italia a riprendere, dopo i primi giorni di iniziale smarrimento, a riprendere subito il punto delle donazioni di sangue. Quindi siccome siamo i meglio di parecchi, non possiamo dire di tutti, diciamo di parecchi, è il momento di andare anche a donare plasma. Di plasma c'è ancora più bisogno che di sangue. 0586 44 41 11 si prende e si va. Guarda, io ora butto giù dal video, telefono e vado a donare plasma. Ci si vede al centro trasfusionale. Ciao, grazie a tutti. Grazie a Bestia perché Livorno ha un cuore enorme. Viva l'Avis, viva i donatori di sangue.